iPhone 6s Questo telefono appena a un amico Non si avvicina Da quello che mi ha detto, un po' di due giorni Il telefono appena mostro un grigio Si avvicinò molto freddo e poi si avvicinò Dopo lì non si avvicinò Ho cercato di caricare Almeno, a volte non è la migliore soluzione Non c'è nessun senso di vita Potrebbe essere la batteria che non funziona O potrebbe essere il display che è stato dappertato dopo un fall L'unico modo per capire è di aprire il telefono e iniziare testando Ciao, mi chiamo Mirko e questo è il nostro Restoreit Ho scopo i pentalo Ho scopo i pentalo Ho scopo con una copa di suzione E con alcuni piccoli plastiche Ho scopo il braccio del connesso di batteria E lo scopo E lo scopo Ho proc Ace dello Ho scopo con gli Patriot Ho scopo il studio Ho scopo una relazione che ho usato per tastic E so fatto che la funziona Ho provato Ho scopo che funziona Il plug necessario Non lo uso in un tempo, meglio mettere il telefono su charge. Non si avvicina, per cambiare, dovrebbe avvicinare. Ho cercato di cliccare il bottone di power. No, non funziona, non funziona. Ho disconnato la batteria test. Se non è la batteria, allora proviamo a provare il display. I remove the connector bracket. I disconnect all the flats. And I take off the display. Since I'm here, I remove also the adhesive from the housing. Let's try with the test display. I plug in it. The connectors. I connect the battery. I put it in charge for a while. Let's see if it works now. The battery charging symbol has appeared. Very good. So the problem was the display. It's turning on. Ok. It works well. I can proceed with the repair. I take off the touch display. I take off the touch display. And go on with the replacement. I have a working use display for the 6s. It has a slight scratch. But doesn't affect its functioning. I transfer all parts from the broken display. to the working one. From sensors and speaker. On button. The protection panel. All screws in place. Stuff already done a thousand times. I close the phone. I close the phone. The pentelope screws. The pentelope screws. I close the Foot. E ora un po' di test, vediamo se tutto funziona bene Tutto è ok, il telefono funziona ancora bene Il tempo necessario di circa 1 ora di lavoro iPhone 6s, un riparato rapidamente L'arrivo non funziona e dopo un testo rapidamente ho trovato che il problema non era la batteria, ma il display dapposito Con questo deprecimento, il telefono è funzionato ancora E ora lo tornare al mio amico Se volete ringrazio, ricordatevi di iscrivervi al canale e di iscrivervi al canale Ciao